Un anno fa Alessandro Montanari presentava Euroinomani, duro jaccusa, la cultura europeista di stampo teutonico, nonché inno sovranista che accoglieva con favore l'avvento del governo giallo-verde. 12 mesi dopo, eccoci di nuovo insieme al giornalista, scrittore, autore televisivo, deluso dall'estate politicamente più inquieta della storia recente. Questo governo nel quale ci sono i 5 Stelle è radicalmente diverso dal governo di prima, anche se rimane Conte che non è più l'avvocato degli italiani, ma è l'avvocato o di se stesso o di qualcosa di diverso e purtroppo ha un'ispirazione chiaramente europeista, laddove con questo io non voglio dare un'accezione negativa, ma mi sembra un europeismo abbastanza acritico perché i problemi dell'euro sono rimasti tra gli quali e nessuno li ha sollevati. È anche vero però che se Salvini volesse vedere il bicchiere mezzo pieno rispetto a ciò che gli è capitato, potrebbe anche dire che il suo governo è terminato prima di diventare impopolare. Chi governa dopo un po' il consenso lo perde perché deve per forza prendere decisioni difficili. Diciamo che in quella trappola non è caduto, il consenso lo ha mantenuto e forse non si è neanche giocato fino in fondo le carte di quello scardinamento europeo che aveva promesso e che forse non ha neanche avuto il tempo materiale di fare. Io direi che se una cosa questa situazione l'ha chiarita, ha chiarito chi e che cosa era percepito come un pericolo, un avversario dall'Unione Europea, dall'euroburocrazia, da quelle che io chiamo euroinomani. Era Salvini quello che era percepito come un pericolo, era Salvini con i suoi economisti alla Borghi, Bagna, insomma queste componenti che sembravano un po' più radicate e un po' più convinte di quelle dei 5 Stelle perché ricordiamoci che i 5 Stelle sono partiti nella scorsa campagna della politica, prima del 4 marzo, addirittura a parlare di referendum per l'uscita dall'euro nel quale poi suggerivano in un modo abbastanza ridicolo di votare per rimanere, quindi non si capisce perché uno deve fare un referendum per uscire e suggerire poi di rimanere, lascia le cose come stanno, però volevano dare questa rappresentazione del movimento di questo tipo. Mentre nella campagna elettorale per le europee il signor ministro degli esteri Di Maio, che adesso forse entrerà nel gruppo di Macron, andava a cercare di fare un'alleanza con i gile gialli, tra l'altro con le componenti un po' più violente e radicali dei gile gialli. Io questa schizofrenia non la capisco. Le polemiche sulla terza media del ministro Bellanova e sulla scarsa dimestichezza linguistica di Di Maio non sono problemi in sé, sottolinea Montanari, ma riflettono in modo plastico le contraddizioni del Conte Bis. Adesso noto che quelli che per questa rappresentazione, che è dei grandi giornali, erano gli incompetenti fino a ieri, cioè i 5 Stelle, sono stati tutti riabilitati in fretta come competenti. Addirittura abbiamo visto in questo governo, abbiamo ministri che vanno a fare i ministri degli esteri a un'età giovanissima, senza una laurea, c'è stato il caso della Bellanova, alla quale viene rimproverato, che non è una cosa da rimproverare in sé il titolo della terza media. Lo è se le persone che prima rimproveravano gli altri, accusandoli di essere incompetenti, adesso ti presentano questi profili, che magari si dimostreranno degli ottimi ministri, ma non trovo la coerenza con la critica che veniva fatta allora. Allora, se la rappresentazione è questa, io penso che cadranno un po' di maschere, perché è evidente che da un giorno all'altro per sostenere questo governo che si regge sull'esclusione di Salvini si sono dovuti rimangiare tutta una narrazione. Ed eccoci tornati al libro che in alcune righe lette un anno dopo appare non solo criticamente analitico, ma anche profetico. Quando raccontavi della austerity, la famigerata austerity dell'era montiana, mentre il debito tedesco diminuiva, il debito italiano aumentava di 138 miliardi, quello spagnolo di 121 e così via. Se a questo aggiungiamo che in tutti e tre i paesi in questione la disoccupazione non era ancora scesa sotto i livelli a doppia cifra, si capisce bene perché la sensazione che il rigore sia servito solo a rieducare il popolo vada diffondendosi omogeneamente nel vecchio continente e poi ti soffermi sull'analisi della disoccupazione. Tu pensi che il cambio di governo ci possa spingere nuovamente in quella direzione, visto che di recessione si torna a parlare in modo prepotente e preoccupante? Non credo perché è cambiato un fattore, che adesso è la Germania che sta andando in recessione. Quando si tratta di curare le ferite della Germania, allora andrà bene perché è già stato annunciato un pacchetto di misure keynesiane in Germania. Quindi in questa Europa c'è chi può e chi non può. Noi siamo tra quelli che non possono, non potevano fino a ieri soprattutto perché c'era un governo nemico, adesso potranno semplicemente perché queste misure servono alla Germania, serviranno anche a noi di pari passo e sono già state applicate e utilizzate dalla Francia. Ma vedrete che a noi le faranno, come dire, adottare con maggiore attenzione. Ma semplicemente per questo. Però faccio notare che se la cura per la recessione sono le politiche keynesiane, come io e tanti altri sosteniamo da tanto tempo, mi devono spiegare perché per dieci anni a noi italiani invece hanno fatto applicare il rigore. Grazie.